Per rendere preziosi i vostri momenti di gloria, sportiva, con coppe, trofei, targhe e medaglie, passate da Cervelieri, che con competenza saprà consigliarvi per il meglio e rendere speciale ogni vostra esigenza. Da Cervelieri potrete inoltre far realizzare gagliardetti, distintivi, cappellini e gadget personalizzati di ogni genere. Cervelieri si trova a Bari, in via Quintinosella 16A. Per maggiori informazioni potete inoltre consultare il sito web www.cervelieri.com o telefonare allo 080 523 7878. Ti aspettiamo!